www.feyyaz.tv Ammetto di aver avuto i miei dubbi quella mattina, di aver nascosto i miei stati d'animo, le mie sensazioni. Ma solo chi ha vissuto quegli anni può capire davvero cosa è successo, cosa ci circondava. Questa mattina io non stavo tranquilla quando siamo partiti in macchina con Giorgio, anche se avevamo pianificato tutto fino ai minimi dettagli. Sì, forza! 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 Non vi volete? Oh, fatti a terra! A terra! Oggi consegni i disegni di ornato. Sì, vorrei essere il primo così almeno poi parlo col professore e sono libero fino a domenica, così posso pensare soltanto alla gara. Provaci, siete accetta alla consegna prima. Mancano 38 secondi, veloci! Dai, dai, dai! Dai, chi è il bisogno? 27! Veloce, vanti! Dai! Dai! Svelto! Svelto, cazzo! Figati! Diempi la borsa! 22! Si esce e si spara! Si esce e si spara! Si esce e non si smette di sparare, chiaro? Chiaro! Ora! Dai!